È comodosa, è sciccosa, è risparmiosa, è scattosa, è ampia e confortevole come nessuno. Uno è una Fiat! È elegante e divertente come nessuno. Uno è una Fiat! È avara nel consumo come nessuno. Uno è una Fiat! È brillante, potente e entusiasmante come nessuno. Uno è una Fiat! Uno. Tutto il resto è relativo.